Torna il Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati, mappe e creatività, organizzato da Consiglio regionale, Consorzio Topics e CSI Piemonte. La terza edizione del contest si pone l'obiettivo di coinvolgere la comunità di creativi, mappatori, sviluppatori, storyteller, designer, in progetti che illustrino le trasformazioni di una regione, il Piemonte, che sta cambiando sotto il piano urbanistico, architettonico e paesaggistico, fino a quello sociale, economico e culturale.